Il 25 aprile del Presidente della Repubblica è stato in Toscana, a Civitella, in Val di Chiana, una visita alla sua che ha mobilitato anche molti consiglieri regionali, a cominciare dal Presidente dell'Assemblea. I consiglieri hanno partecipato anche alle tante iniziative nei loro territori. In questi giorni si è riunito il Consiglio regionale, ha varato l'adeguamento al nuovo codice dei contratti pubblici, ha aggiornato poi il reticolo idrografico e di gestione a distanza di appena un anno dall'ultimo intervento, ha approvato la relazione sulle attività svolte dal Coreco e ha ratificato l'accordo di pianificazione tra Regione Toscana e Comune di Firenze per il Parco Agricolo della Piana. Questo naturalmente ha anche a che fare con la questione dell'aeroporto di Peretola alla vigilia della sua trasformazione. Racconteremo il confronto, ascolteremo le opinioni, tradizione e innovazione. Nei giorni della Vespa a Pontederra c'erano migliaia di appassionati con lo scooter più iconico di sempre e a Pisa sempre in questi ultimi giorni è nato un hub per l'innovazione, la ricerca e la formazione regionale che sarà aperta ai docenti e agli studenti di tutta la Toscana. La seduta si è aperta con un minuto di silenzio per l'ultima vittima del lavoro nella nostra regione da un giovane di appena 23 anni. La tragedia è accaduta a Montepulciano nel Senese, il bilancio di questa prima parte dell'anno è tragico, hanno perso la vita in Toscana in nove. In verità il Consiglio regionale tutto ci ha provato ad adottare contromisure adeguate negli ambiti ovviamente di sua competenza, ha anche affrontato per primo la questione sicurezza per i rider, i fattorini dei nostri tempi. Due mesi fa a Firenze, lo ricordiamo e vediamo queste immagini, ci fu la strage di via Mariti nel cantiere del supermercato, cinque le vittime e tre i feriti gravi, uno dei morti viveva a Livorno, la vedova adesso lamenta il fatto che non ci sia ancora nessun indagato. E poi c'è stata la tragedia dalla centrale idroelettrica sommersa nell'appennino bolognese che ci ha toccato per come è accaduta e per il bilancio pesantissimo che ha determinato. Ha perso la vita anche un tecnico di Forcoli in Valdera e a Carrara. Qualche giorno fa c'è stata la manifestazione con centinaia di lavoratori dopo le parole di un imprenditore del Marmo che in un fuori onda aveva dato la colpa dell'infortunio agli stessi lavoratori. Poi si è scusato, ha detto di essere stato travisato, ma la protesta c'è stata lo stesso peraltro in uno dei settori a maggior rischio in Italia. Solo a gennaio e febbraio nel nostro paese ci sono stati 119 morti, il 25% in più dell'anno prima, proprio dopo quello che è accaduto a Firenze. A metà febbraio la politica e le istituzioni hanno promesso un rinnovato impegno più efficace a tutti i livelli. Sono venuto qui oggi a Civitella, uno dei luoghi simbolo della barbarie nazifascista, per far memoria di tutte le vittime dei crimini di guerra trucidate in quel 1944 sul nostro territorio nazionale e anche all'estero. Non c'è alcuna parte del fuori italiano, con la sola eccezione della Sardegna, che non abbia patito la violenza nazifascista contro i civili e che non abbia pianto sulle spoglie dei propri concittadini brutalmente assassinati. La regione che ci ospita la Toscana è tra quelle che hanno pagato il più alto tributo di sangue innocente, insieme al Piemonte e all'Emilia Romagna. La magistratura militare e gli storici, dopo un difficile lavoro di ricerca durato decenni, hanno finora documentato sul nostro territorio italiano 5.000 crudeli e infami episodi di eccidi, rappresaglie, esecuzioni sommarie. Con queste barbare uccisioni, nella loro strategia di morte, i nazifascisti cercavano di fare terra bruciata attorno ai partigiani per proteggere la ritirata tedesca. Il 25 aprile è per l'Italia una ricorrenza fondante, la festa della pace, della libertà ritrovata e del ritorno nel novro delle nazioni democratiche. Quella pace e quella libertà che, trovando radici nella resistenza di un popolo contro la barbare nazifascista, hanno prodotto la Costituzione repubblicana, in cui tutti possono riconoscersi e che rappresenta garanzia. Rappresenta garanzia di democrazia e di giustizia, di saldo di niego di ogni formo principio di autoritarismo o di totalitarismo. Tra le vittime, donne, bambini, 115 a Civitella, 58 a Cordia, 71 a San Pancrazio, praticamente 250 persone. Molti erano addirittura in chiesa, partecipavano alla messa nel giorno dei Santi Pietro e Paolo il 29 giugno 1944. Mancavano nove mesi alla liberazione. Quelle persone non trovarono scampo, furono trucidate. È uno degli episodi più tragici del periodo della resistenza, ma ce ne sono stati molti altri, il più grave. Certo è stato quello di Sant'Anna di Stazema, ma nel passaggio verso nord i tedeschi, aiutati da alcuni fascisti della zona, fecero un rastrellamento tra Pisa e Lucca nella Romagna di San Giuliano Terme. Per molti non ci fu scampo. E poi il 25 aprile si è avvissuto anche nelle piazze Firenze, Livorno, Pisa, in tutte le città. Nonostante il tempo incerto, si sono svolte le cerimonie istituzionali che hanno coinvolto anche i consiglieri regionali. Lo stesso consiglio, con un bando apposito, ha stabilito un finanziamento di 300 mila euro per sostenere le iniziative in questo ottantesimo anno delle stragi nazifasciste e verso l'ottantesimo anniversario nel 2025 della liberazione. È un luogo simbolo questo della Toscana, ci fu una delle più efferate stragi nazifasciste e oggi noi vogliamo confermare di voler essere sempre dalla parte giusta della storia, quella che ha combattuto per la democrazia, per i diritti, per la libertà. La libertà, come diceva Piero Calamandrei, è come l'aria. Te ne accorgi quando è importante e quando ti manca, quando quell'aria non la trovi. E noi oggi vogliamo sottoscrivere tutti insieme nuovamente un patto di democrazia in questo Paese. Vogliamo costruire le condizioni perché l'Italia continui a essere un territorio antifascista, sempre e comunque. Anche questa puntata di Regionando va in onda senza le indicazioni dei gruppi politici di ciascun consigliere intervistato e naturalmente rispettando, ma questo lo facciamo sempre, la par condicio tra maggioranza e opposizioni. A vigilare sul pluralismo, anche in questa occasione, c'è il core come il comitato regionale delle comunicazioni, che è un'emanazione dell'autorità nazionale, la Gcom. E proprio del core, come si è parlato nell'ultima seduta, del Consiglio regionale, con un apprezzamento condiviso che si è tradotto in un voto unanime a sostegno della sua attività. Utile, secondo tutti, il core con tour di cui vediamo alcune immagini in diverse città. Ha fatto tappa in tutti i capoluoghi. Fondamentale l'impegno che l'organismo svolge per risolvere anche le controversie nel settore delle telecomunicazioni, telefonia, internet, tv. Parla la Presidente della Commissione Cultura. Si tratta di un'agenzia che è poco conosciuta e che invece riveste una funzione importantissima per i cittadini e le cittadine dal punto di vista del loro interesse a quanto si muove nell'ambiente dell'informazione e delle telecomunicazioni in generale, ma anche per quanto riguarda le loro vertenze su queste materie. Il core come ha sia attività che gli sono delegate dal governo sia attività proprie. E devo dire che la Commissione ha valutato positivamente tutte le attività del core come in questo settore. Soprattutto anche la rispondenza delle richieste che la Commissione e il Consiglio avevano inoltrato in precedenza, cioè quella di fare qualcosa per far conoscere meglio questo organismo ai cittadini e alle cittadine che spesso non sanno che cos'è. Maggioranza favorevole, opposizioni tutte contrarie alla delibera che sancisce l'accordo di pianificazione tra la Regione e il Comune di Firenze sul Parco Agricolo della Piana. Accordi analoghi sono già stati segrati con gli altri comuni interessati. Con questo accordo di pianificazione le amministrazioni definiscono consensualmente le modifiche da apportare ai loro strumenti della pianificazione territoriale e la questione inevitabilmente qui si intreccia con quella dello sviluppo dell'aeroporto di Firenze. Ascoltiamo prima le ragioni del no a questo atto. Si va a un consumo ulteriore del suolo e questo potrebbe essere e potrebbe andare in contrasto proprio con il nuovo masterplan dell'aeroporto. Per cui la provocazione che ci sembrava opportuna dover fare in aula era quella di dire che il ricevimento di questo piano nuovo della Piana di Castello, scusatemi la ripetizione, sicuramente andrà in contrasto con l'aeroporto per cui significa che sarà una spallata che verrà data finalmente alla risoluzione e alla messa in sicurezza dell'aeroporto di Perito. Più si insiste negli atti di pianificazione a parlare del parco e dello sviluppo del parco più è difficile la coesistenza con lo sviluppo dell'aeroporto e invece naturalmente ha non soltanto impatto sull'attività umane e quindi anche sullo sviluppo che c'è stato delle residenze, il nuovo polo universitario e altro, ma ha naturalmente un impatto ambientale notevole e il primo pericolo di ogni aeroporto è il bird strike, cioè la possibilità di collisione fra gli aerei e gli uccelli e conseguentemente l'abbiamo evidenziato oltre al ritardo con cui è arrivata questa ratifica. Lo stesso tempo lo dedichiamo alle ragioni invece del sì. Da un lato si fissa la dimensione del parco in 80 ettari, chiaramente questo non implica come siano disposti quegli 80 ettari, quindi in astratto non vi è nessuna incompatibilità con le progettualità future consentite al momento dal masterplan. Dall'altro lato invece, dato fondamentale per la regione, si prevede lo stralcio dell'ex inceneritore di San Donnino, che non sarà un'area verde ma sarà un luogo per collocare un impianto di recupero, come l'impianto che si propone di recupero dei RAE, dei rifiuti tecnologici, che non ha impatto ambientale e costituisce uno snodo fondamentale della visione del piano dell'economia circolare della regione. Quindi a mio avviso un atto che è prima cosa fondamentale perché consente la piena efficacia del piano operativo del Comune di Firenze, che era sospesa in attesa della ratifica, che riafferma i principi fondamentali e la presenza fondamentale del parco nella visione della piana e che mette anche le basi per la conservazione di tutti gli equilibri futuri con le realizzazioni che lì avranno luogo. Appena un anno dopo la precedente modifica, il Consiglio regionale vota sì al nuovo aggiornamento del reticolo idrografico e di gestione. Ci sono adeguamenti tecnici per la realizzazione di nuove infrastrutture, vengono inseriti nuovi corsi d'acqua sulla base delle loro caratteristiche e viene anche rinviata ad un momento successivo la decisione sul tratto Apo-Versiliese. L'Aula ha anche approvato a maggioranza, le opposizioni si sono astenute, le modifica la legge regionale sui contratti pubblici e alcune disposizioni su sicurezza e regolarità del lavoro. La norma introduce nuove disposizioni organizzative per le procedure di gara, tra le novità l'introduzione della figura di responsabile unico di progetto in sostituzione del responsabile unico del procedimento e dei responsabili del procedimento di fase per la programmazione, la progettazione, e l'esecuzione per l'affidamento. Formazione, ricerca, confronto e sostegno, apprendimento e innovazione è il nuovo centro aperto a Pisa, l'istituto da Vinci Fascetti di cui vediamo le immagini. Questo hub per l'innovazione, la ricerca e la formazione regionale nasce con il finanziamento per tre anni del Consiglio regionale in collaborazione con l'ufficio scolastico, Indire, l'Università di Pisa. Questa è una palestra che mettiamo a disposizione delle studentesse, degli studenti di questo istituto ma anche di tutta la Toscana. Bisogna innovare, innovare nella formazione, innovare nel modo di fare istruzione. La scuola sta guardando al futuro e vuole costruire condizioni per insegnare alle ragazze e ragazze ad essere cittadini del mondo in maniera diversa, innovativa. Noi come Consiglio regionale siamo orgogliosi di aver finanziato questo progetto e lo abbiamo fatto utilizzando i risparmi sui costi della politica. Le due cose si tengono insieme, si può lavorare bene, efficientizzare e usare quelle risorse per dare risposte alle ragazze e ragazzi che sono il nostro presente e il nostro futuro. L'obiettivo generale è quello di promuovere un'istruzione di qualità che si basi su innovazione e ricerca, lo scambio di buone pratiche. Tra le scuole della regione servirà a preparare meglio gli studenti per le sfide del futuro. L'importanza sono di due tipi, quella formativa didattica che è la principale, che mette in campo un centro di formazione primo a livello regionale per così tanti attori e sicuramente uno dei primi fatto in ambito scolastico a livello nazionale e dedicato proprio alla formazione di docenti e studenti. L'altro aspetto estremamente importante è la sinergia degli attori. È una questione anche di ambienti, di studio e di condivisione. L'atmosfera cambia in questa struttura. Molto spesso e troppo spesso l'ambiente per la scuola non viene considerato come uno degli attori dell'attività didattica ma solo il luogo appunto dove mi metto a sedere. Invece l'ambiente come in ogni luogo, come accade a casa, abbiamo stanze diverse per fare attività diverse. Ebbene anche a scuola dove non si tratta solo di leggere o scrivere qualcosa ma si tratta di collaborare, di presentare, di essere creativi, di fare un debate, per esempio discutere con gli altri. Tutte queste attività, ad esempio, come possono essere fatte se si sta a sedere su dei banchi messi in fila? È assolutamente controproducente. Quindi l'ambiente diventa un ostacolo rispetto al tipo di attività. E per l'Istituto Pisano che lo ospita, cosa rappresenta questo nuovo centro? È certo un'occasione preziosa. Sì, per noi è un'opportunità. Per noi come istituto ma anche per tutte le scuole del territorio. Infatti questo laboratorio, se nel pomeriggio è aperto per la formazione dei docenti in servizio e dei futuri docenti, la mattina è a disposizione delle scuole. Quindi tutte le classi del territorio potranno accedere a questo laboratorio per una didattica digitale, ma più che altro una didattica attiva, dove gli studenti diventano protagonisti nel percorso formativo. E cosa si potrà fare effettivamente? Diciamo, rispetto a quello che potrebbe essere l'idea iniziale, che l'informatica è una disciplina in più, per la maggior parte dei casi è un tappeto, un substrato. Ecco qui, il digitale è proprio lo strumento che serve per lavorare, per fare ricerche, per approfondire, per lavorare come classe rovesciata, cioè dove sono gli studenti che portano avanti la didattica e poi il docente coordina e tira le fila del discorso. Ponte d'Era ha vissuto i giorni più belli, quelli della Vespa, migliaia di appassionati da tutto il mondo, anche con viaggi un po' avventurosi, hanno raggiunto la città della Piaggio. Il Consiglio regionale adesso, su iniziativa della consigliera Meini, sollecita la Giunta affinché proprio la Vespa diventi patrimonio dell'UNESCO. In fondo, visto che parlavamo di innovazione, questa è la dimostrazione di quanto essa si possa fondere molto bene con la tradizione e lo stile del Made in Italy. Da 40 anni Toscana Oggi è la voce del cattolicesimo toscano, come dice il titolo del libro di Andrea Fagioli, direttore per dieci anni della rivista. Presentato proprio qui è stata l'occasione per la consegna all'arcivescovo di Firenze e Betori di una statuetta simbolica voluta dal Consiglio regionale, ispirandosi a Cosimo I dei Medici. Al direttore Mugnaini, il presidente dell'Assemblea, ha consegnato invece una medaglia per il lavoro con il quale, insieme alla redazione, continua a diffondere la voce di Toscana Oggi. La prossima settimana vedremo tante altre iniziative che si sono svolte qui a Palazzo del Pegaso. Ecco comunque le immagini del riconoscimento che è stato assegnato al gruppo toscano Sweetwater Rescue Team per gli interventi durante l'alluvione terribile del novembre scorso. Ovviamente è un premio che premia tutto l'impegno di ogni singolo volontario. Sono giornate speciali, sono giornate che riempiono il cuore. Questo tipo di manifestazioni che possono sembrare formali, in verità hanno un significato veramente molto sostanziale perché è il percepire del riconoscimento di quello che abbiamo fatto finora. Per ora noi ci fermiamo qui, appuntamento a venerdì prossimo, sarà il 3 maggio alle 21.10 sempre dopo il Tg della Sera in tutta la Toscana sul canale 15.